Oggi Formex ad Anci Missione Italia siamo qui a spiegare le nostre strategie soprattutto legate alle opportunità date dal PNRR. Noi abbiamo 90 milioni di progetti su tre anni che sono legati all'opportunità PNRR e sono fondamentalmente dedicati a due aspetti importanti alla digitalizzazione e alla formazione entrambi attività che daranno benefici strutturali. Abbiamo bisogno di incrementare la consapevolezza della nostra pubblica amministrazione affinché si possano supportare i processi di cambiamento necessari. Una particolare attenzione va data ai piccoli comuni. Perché? Perché i piccoli comuni non sempre hanno la forza di fare degli investimenti importanti hanno delle dimensioni non sempre rilevanti che gli consentono di specializzarsi in alcune attività. In quest'ambito noi possiamo dare servizi legati alla formazione, alla digitalizzazione con piattaforme comuni quali Fast e anche al reclutamento perché tutti hanno il diritto di essere raggiunti e di beneficiare del cambiamento in atto.